io mi rendo perfettamente conto di essere ipercritica nel senso lo sapete no che spulcio nel dettaglio qualunque cosa nei film di animazione e spesso e volentieri questa cosa da fastidio ma io lo capisco capisco anche che molto spesso una persona che può stare a guardare qualunque cosa quando accende una del televisore o va al cinema a guardarsi godersi un film delle volte vuole semplicemente guardarsi qualcosa in santa pace spegnere effettivamente il cervello non è una cosa che mi piace fare perché per me spegnere il cervello significa accettare di essere presi in giro però certe volte su internet mi capita di leggere dei criticismi veramente idioti ma idioti del tipo che non hanno non solo non hanno motivo d'essere ma sono anche di un'entità veramente superficiale per spiegarmi meglio io non credo che in un film di asterix realizzato in 3d sia così importante che la grafica raggiunga i livelli della world disney anzi a essere sincera non mi interessa proprio nel senso l'ho chiarito tante volte il comparto tecnico per me ha un'importanza secondaria rispetto alla scrittura del film questo non significa assolutamente che non abbia importanza per nulla è perché per esempio nel caso del gobbo di notre dame 2 il pessimo comparto tecnico l'animazione scrausa il disegno ancora peggio il background non ne parliamo e l'amalgama del tutto rovinavano persino il quel poco che c'era di buono del film ranieri una bellissima voce però su quelle immagini atroci risultava orrida persino quella ciò detto i film di asterix ovviamente sono realizzati con un budget molto inferiore a quello disposizione della world disney per cui è inevitabile che la grafica sia insomma più a livello di un hotel transilvania piuttosto che un film dreamworks di grande rilievo oppure un film disney o pixar e se devo essere sincera nei film di asterix la bella grafica non è mai stato il punto focale asterix è un franchise satirico questo significa che nasce dai fumetti questo significa che si tratta non solo di una parodia ma di una parodia sfondo politico certo non tutto quello che è dentro all'opera è politico delle volte semplicemente sociale molto spesso si occupa semplicemente di parlare di un certo aspetto della vita ma in linea di massima è un'opera molto matura anche se in forma di un film o di un fumetto per famiglie ed è una cosa che non hanno mai cambiato nei decenni tutto il resto dei franchise si sono in qualche modo sono degenerati in qualcos'altro sono partiti da una fonte di ispirazione da una passione da un prodotto con diversi livelli di lettura a qualcosa di facilmente vendibile qualcosa di poco impegnato sicuri del fatto che tanto in maniera il pubblico affezionato andrà al cinema a vedere le cose i film verranno visti in maniera in un modo o nell'altro perché la gente risponde al sentimento la disney per esempio non si impegna più a fare delle cose innovative ci sono riusciti con oceani è stato l'ultimo che ricordo penso coco e anche zotropolis ma ormai è diventata un'eccezione non è più la regola prima film del genere sarebbero stati comuni sarebbero stati normali non sarebbero stati l'eccezionalità io non credo che ci sia più su questo canale o comunque sia è stata oscurata proprio l'ho tolta la recensione di big hero six ma in quella recensione mi mostravo piuttosto critica di big hero six nonostante sia un film molto carino però l'avevo ritenuto piuttosto mediocre per i livelli della disney meglio di frozen ma molto lontano dagli standard che ricordavo perché se bene fosse spettacolare mancava di livelli di lettura più profondi era tutto esattamente come appariva non dava spazio a interpretazioni non per questo era un film malvagio era un film molto semplice è un film con supereroi quindi molto semplice di struttura la semplicità non è un male però insomma era lecito ai tempi aspettarsi di più ora sarebbe un capolavoro bene in tempi come questi in cui l'animazione si adagia se ai livelli della world disney della dreamworks e della pixar continuano con mio enorme piacere ad uscire anche i film di asterix e non me ne frega un cazzo se non hanno una grafica all'altezza di final fantasy perché io sinceramente asterix così non lo voglio vedere io voglio l'asterix caricaturale non mi interessa se c'è qualche pixel in meno l'animazione in questo film è comunque ottima e si vede che hanno dovuto usare la computer grafica perché sanno che in questo modo restano competitivi sul mercato perché appena può il film immette degli intermezzi in animazione tradizionale questo per dire che ce le hanno perfettamente le capacità di fare delle cose meravigliose semplicemente vogliono rimanere competitivi sul mercato il film esteticamente molto bello secondo me soldi o non soldi nel rendering e nella perfezione del pixel non mi interessa non è quello l'importante perché la cgi invecchia le storie rimangono invece ed era davvero da tantissimo tempo che volevo parlare di questo film dall'anno scorso e penso che la maniera più efficace di farlo è veloce considerato il casino in cui siamo in cui sono col lavoro e tutto il resto delle recensioni ancora in coda tutto che procede lentamente risolverla in un vlog però un vlog insomma che valga la pena per tutatis questo film di asterix non farò spoiler fino al circa la metà del video è poco convenzionale rispetto alla media è sovversivo ma non nel senso negativo dei termini nei confronti della saga di asterix è sovversivo per diverse ragioni tanto per cominciare perché i ruoli sono sovvertiti asterix e obelix non sono più i protagonisti assoluti della vicenda cioè a dire il vero sono protagonisti ma in realtà il vero protagonista formale del film è il druido panoramix ed è una scelta che ho trovato non solo coraggiosa ma incredibilmente interessante soprattutto per il tema che viene trattato nel film la pellicola inizia con panoramix che ha un incidente mentre si trova nel bosco a fare il batman del ragallica e a salvare uccellini dei nidi a raccogliere vischio gli capita una cosa che a un druido non dovrebbe capitare ovvero si sofferma troppo sul ramo di un albero che finisce con lo spezzarsi con conseguente del caso a causa di questo panoramix si rende conto in successiva sede con gli altri membri del villaggio nell'armorica che continua a resistere agli attacchi dei romani dei conquistatori romani che nel caso gli succedesse qualcosa deve essere pronto per avere un successore per avere qualcuno che lo possa sostituire che sappia il segreto della pozione magica la famosa pozione che se bevuta rende i galli invincibili e consente loro di sconfiggere i romani non importa in quanti si presenti o non importa quante macchine da guerra portino ai confini del villaggio allora parte per la foresta dei carnuti che è il luogo di ritrovo dei druidi della gallia con il fido asterix e obelix il porta menhir in più anche una piccola clandestina una sua lieva e il cagnolino idefix che ormai si ritrova in tutte le storie di asterix lo scopo del film è trovare un successore al duido dunque sarà molto difficile non fare spoiler io vi ho detto la trama la diciamo la sinossi nella maniera più stringata possibile perché qualunque cosa si veda dall'inizio alla fine del film dovrebbe essere visto senza cioè a tabula rasa tecnicamente dovreste venire a vedere qui questa recensione dopo aver visto il film già anche dal dal discorso che farò adesso ma se volete inquadrarlo e capire se ne vale la pena beh io dedico questa i prossimi 15 20 minuti a questo arduo compito allora iniziamo con dire che questo film a contrario dei precedenti non si basa su nessun fumetto di uderzo e goscinni uderzo il quale illustratore il quale purtroppo ci ha lasciati pochi giorni fa e in questo modo c'è questo film realizzato durante l'ultimo suo anno di vita si è si è rivelato è quasi profetico se sembra che sembra quasi che se lo siano spettati ha portato sfiga poverino aveva 92 anni si è ci ha lasciato per un arresto cardiaco non per quello che pensate è una cosa che non si può nominare non è basato su nessun fumetto ma prende spunto da molte opere create da loro diversi fumetti come per esempio il sono stati tratti per il film il fatto del girare per la gallia alla ricerca di un successore per panoramix alcuni personaggi come per esempio no vabbè ve lo dico nella parte spoiler è un personaggio vicino a cesare vi dico solo questo così se avete visto il film sapete a chi mi riferisco e altre piccole chicche ma la storia è originale completamente originale e per questo sovverte praticamente tutto sovverte non solo il ruolo del protagonista ma anche il ruolo dell'antagonista perché se i romani ovviamente sono onnipresenti in questo film però diciamo che come asterix e obelix hanno una sorta di funzione in secondo piano molto importanti per la trama come asterix e obelix ma non più preponderanti perché l'argomento stavolta è un altro c'è sempre un sottotesto un fortissimo sottotesto politico un fortissimo sottotesto sociale però è tutto dedicato a un livello di lettura più profondo per chi ha voglia di guardare oltre al film il film di suo d'altro canto è abbastanza maturo da stare in piedi da solo c'è molta sagaccia ma si sente che la parte comica che comunque non è non è indifferente come come si ci può aspettare da un prodotto di asterix non è il punto del film non è importante se guardate per esempio un film come asterix eclopatra che è probabilmente il mio preferito della serie è totalmente demenziale dall'inizio alla fine c'è comunque un sottotesto politico sociale anche è un film intelligente ma è talmente idiota da seguire che voi non avete idea cioè è l'assurdo proprio su asterix portato all'ennesima potenza chiamatemi 007 te tu non sai dove mettete se ti cerca 007 te cioè c'è quello e poi c'è le 12 fatiche di asterix sono i due più assurdi che ricordo della serie ma in particolar modo asterix eclopatra che tra l'altro era stato fatto a parodia dei film disney infatti c'erano anche le canzoni tutta sfottò delle canzoni della disney quindi potete immaginare è un delirio asterix eclopatra ed in dono la portiamo e chi se la mangerà certamente creperà creperà politically correct in maniera incredibile perché allora si faceva tra l'altro asterix in particolar modo facevano siccome tutti caricaturati i personaggi i romani sono la caricatura dei romani di oggi quindi parlano tutti il romanesco hanno c'è il centurione con la panza da birrozzo i galli pure sono tutte sono tutte parodie della gente francesi presumibilmente attuali o comunque figure sociali attuali e così ogni volta che compariva una nuova popolazione una nuova figura ecco e quindi non si salvavano nemmeno le popolazioni africane poi vi potete immaginare il risultato io a ripensarci mi sputtano se volete fare un tuffo nella scorrettezza totale e fregarvene proprio di tutti i paletti moderni fate un solito guardarvi asterix eclopatra perché per esempio questa è un'altra cosa che in asterix il segreto della pozione magica non c'è più purtroppo perché insomma adesso non verrebbe accettata una scena come quella del leone di clopatra o quella del pirata che se ne sta in vedetta sull'albero maestro sapete a cosa mi riferisco scene del genere non sarebbero più accettate ma il film mantiene comunque la sua degnità persino in questi tempi il messaggio del film è rivolto al punto al futuro alla fiducia nella nuova generazione nelle nuove generazioni la fiducia nei ragazzi non è una fiducia incondizionata quella di cui si parla è una fiducia molto cinica molto realistica c'è una visione della situazione disincantata ma comunque piena di speranza asterix non è un franchise che di solito racconta le favole non è un franchise che ha l'abitudine di divagare su speranze improbabili e se ne sta molto sempre con i piedi per terra e questo film non fa eccezione noto anche con piacere che ha resistito all'ondata della moda del femminismo di hollywood moderno perché il femminismo che è presente in questo film ed è presente in questo film è efficace e funziona ed è quello che dovrebbe esserci in ogni buon film cosa che purtroppo oggigiorno capita una volta su 20 abbiamo un nuovo personaggio che si è unito al gruppo questa bambina che è stata criticatissima ho notato se può rassicurarvi visto che non so quanti di voi avranno visto il film ma tanto per cominciare l'unica cosa fastidiosa di lei è la doppiatrice italiana che le hanno dato non ho visto il film in francese quindi non vi so dire come rende nella lingua originale in italiano è un po fastidiosa più che altro perché si sente che è una che sta cercando di fare la voce di una bambina più piccola perché è una bambina proprio piccola ah panoramics lo so non dovevo nascondermi là dentro pensavo di uscire prima ma mi sono addormentata inoltre non è un personaggio che prende troppo spazio non ruba lo spazio ai protagonisti si prende il giusto suo per il ruolo che deve avere dopo tutto il protagonista è panoramics è funzionale non è una Mary Sue è ancora più importante prima di essere una femmina è una bambina è quello l'importante che è una bambina è un bambino maschio femmina non è importante è un bambino è quello il punto del film il fatto che sia una femmina ha un'importanza relativa a certe scene a certe a certe punzecchiate che fanno ma non è una roba che dà fastidio non è una roba che disturba soprattutto considerato il personaggio che lei come scritto prima ho detto che i romani non sono più il villain principale e chi è il villain principale? dovrei fare spoiler per rivelarlo per il momento posso dire che il villain principale è un problema interno è un problema interno non hanno fatto la solita carognata di rendere i protagonisti i villain cioè non hanno fatto la cosa che hanno fatto in Ralph Asterix e Obelix non sono i villain il villaggio dei galli non sono i villain ok non è questo il punto grazie al cielo non si sono abbassati a quelle cazzate facilone ma siamo sulla via diciamo che hanno hanno inquadrato una problematica reale che c'è nella nostra società come al solito come fanno sempre nei film di Asterix ci azzeccano sempre perché sono film intelligenti sono film sentiti appassionati e hanno parlato di una cosa di cui si dovrebbe parlare molto di più al giorno d'oggi fuori dal contesto dei cartoni animati fuori da questi edulcoramenti posso dire che è scritto benissimo è un villain accattivante è un villain fascinoso carismatico che regala in combinazione con Panoramix un climax mi è stato chiesto di chiamarlo climax per via del fatto che in lingua italiana si dice climax non indifferente per un film così almeno io la prima volta che l'ho visto l'ho sentito tantissimo già la seconda me l'aspettavo quindi non non mi sono più emozionata a livello però mi è mi si è allargato il sorriso tutte le volte che vedo questo film mi si allarga un sorriso perché da regala sensazioni positive dall'inizio alla fine la narrazione non è pesante procede fluida ho notato che si sono incartati un paio di volte si rilevano questi questi incartamenti quando ci sono troppe interruzioni di una scena per far vedere in parallelo qualcosa che succede da un'altra parte e quel qualcosa che succede da un'altra parte non ha un'importanza poi così grande ci sono proprio interruzioni tattiche per far scorrere il film meglio questa è una cosa che hanno fatto nell'hobbit un sacco di volte per esempio nella non so se vi ricordate ma nella scena di smaug con bilbo e smaug proprio dentro erebor quella scena lì soprattutto in versione integrale viene interrotta una marea di volte dura davvero troppo tempo c'è un'ora di film con anche di più con bilbo dentro a parlare con smaug costantemente interrotto da scene da scene che si svolgevano fuori che non erano importanti quanto invece quella scena lì che era il cardine della storia ecco la stessa cosa hanno fatto qua in modo più elegante si sente molto di meno perché l'opera in generale molto più leggera è molto più tranquilla e pretende tantissimo di meno e le interruzioni sono fatte in maniera scorrevole non sono un pugno nello stomaco per esempio scena all'interno del consiglio dei druidi dentro la foresta dei carnuti la fai in un certo modo mantenendo quel tono sposti il spezzo un attimo sposti fuori e c'è una scena simile però con meno significato con lo stesso tono più o meno in cui della gente parla di quello che sta accadendo nella foresta dei carnuti ecco per dire in questo modo c'è una cioè non si ci disperde troppo si rimane sempre focalizzati sul punto però non c'è una scena non hanno fatto hanno fatto in modo di non fare scene troppo lunghe ambientate in un certo scenario per troppo tempo per non rallentare il film dovete ammettere che c'è qualcosa che non va se un film di Asterix si riesce a fare questo trucchetto meglio di un film di Peter Jackson su un'opera come il signore degli anelli o l'Hobbit io mi sono complimentata però questo è sintomo di un problema significa che senza queste piccole interruzioni il film sarebbe le tuccioli quindi non è un film perfetto lo dico subito non voglio non voglio parlarne come se fosse il probabile candidato all'Oscar il film migliore della terra no però è uno dei film animazioni migliori che ho visto quest'anno con i suoi difetti perché ce li ha se non fosse appunto per la grafica io lo ritengo due gradini sotto Klaus anche Klaus non è che è un film la perfezione totale è un film meraviglioso secondo me doveva vincere l'Oscar però la perfezione non è e Asterix era quel segreto della pozione magica ancora meno però è un film ottimo secondo me lo scenario collettivo questo rimane un film di livello un film degno che vale la pena di essere visto se un altro per passare il tempo non legatevi al oddio i tempi nostalgici in cui Asterix era in 2D Asterix non è più lo stesso non fate quell'errore lì non cadete nell'errore di essere così superficiali guardate il film cercate di capirlo cercate di capire cosa vi vuole dire godetevi le battute le gag visive che sono tantissime l'animazione slapstick non manca le scene idiote non mancano e per finire la colonna sonora mi ha sorpreso in positivo perché sì in generale è abbastanza nella norma non è una cosa spettacolare anche lì non è non si tratta di niente di spettacolare ma ci sono un paio di punti in cui è usata De Cristo e c'è in particolare una canzone pop moderna che è stata utilizzata in due punti del film specifici che quando c'è per come è stata messa giù la prima volta è stata messa giù in maniera idiota come 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 vuole il francese di Asterix la seconda è galvanizzante accade nel climax e quando sentite il motivetto ripartire quello che avete sentito all'inizio nella parte insidiota fa l'effetto opposto cioè galvanizza perché è veramente una scena è la scena che è figa e quindi metterci sotto quella particolare canzone con quel particolare ritornello lì ha un'efficacia devastante e ora voglio fare un po' di spoiler un bel po' di spoiler perché del film non vi ho detto praticamente niente andatevelo a vedere subito tanto dura un'oretta e mezza non avete niente da fare siete in quarantena divertitevi prendetevi poccorre non so una bottiglia di lambrusco un po' di grappa fate quello che volete ma guardatevelo e poi tornate qui che parliamo del resto perché è importante ok dunque ma io spinmi all'inizio e nel climax quanto è figa ma quanto ci sta ma quanto è figa ma non lo so ma anche è l'ora pensare di metterci proprio quella canzone non lo so c'è i colpi di genio degli autori del film allora ora posso finalmente parlare della trama in modo libero mi sembra di aver parlato con un groppo fino ad un bavaglio fino a questo momento qua allora Rancorix che è il villain del film in originale si chiama Sulfurix per via del fatto della padronanza che ha del fuoco ma penso che Rancorix sia un nome più azzeccato per via del ruolo che ha nel film Rancorix rappresenta l'ostacolo principale al futuro e adesso spiegherò il perché ma torniamo indietro alla trama del film da come l'avevo lasciata tanto per cominciare il ruolo di Asterix e Obelix in questo film beh Asterix ovviamente ha più importanza di Obelix perché normalmente è il protagonista della saga e in questo caso fa le veci dello spettatore cioè è dentro il film è un po' il ruolo che hanno dato infelicemente al Bilbo Baggins dell'Hobbit che finisce per essere e lì è un difetto lui invece ha una funzione positiva lo spettatore della sua storia è uno spettatore attivo non uno spettatore passivo infatti grazie a lui accadono diverse cose all'interno della trama fa girare gli eventi ecco e lui rappresenta lo spettatore che insomma è sfiduciato nei confronti dei giovani del futuro lui non pensa che esista qualcuno capace di sostituire Panoramix non esiste nessuno capace di conservare fedelmente il segreto della pozione magica e di attuarlo in modo saggio soprattutto perché se quella formula lì capita in mani sbagliate e lui preferirebbe che Panoramix lasciasse il segreto a qualcuno del villaggio perché non si fida di nessun altro però Panoramix vuole lo stesso fare il giro della gallia per assicurarsi intanto per cominciare deve passare il segreto a un altro druido perché i segreti e i druidi si passano solo vocalmente da bocca di druido a orecchio di druido non possono essere scritti i druidi non devono scrivere perché i loro segreti non devono essere divulgati e qui si vede chi è il vero capo del villaggio perché davanti alle richieste di Panoramix Assurancio Torix che dovrebbe essere il capo non può fare nulla cioè per quanto cerchi di essere influente non ha potere cioè lì è solo un nominale come capo anche questo è molto importante per quanto riguarda i vari sottotesti che si possono trovare ed è molto bello il discorso che si fanno sulla spiaggia quando c'è Asterix che guarda sfiduciato i ragazzini, i bambini giocare insieme nella sabbia e c'è Panoramix che gli dice loro sono galli, sono il futuro noi siamo galli, noi resistiamo all'invasione culturale dei romani noi manteniamo la nostra identità culturale, la nostra tradizione quei bambini che vedi giocare laggiù sono galli anche se adesso ti sembrano dei poveri coglioncelli detta come va detta ma sono il nostro futuro, devi contarla questa cosa, è importante e a loro volta dovranno combattere l'invasore quando saranno grandi è per questo motivo che Asterix si lascia convincere insieme a Dobelix ad accompagnarlo in giro per la gallia cioè i druidi che incontrano mentre fanno il giro di gallia sono tutte in qualche modo parodie di figure già conosciute nel cinema nei fumetti c'era la parodia, addirittura la parodia delle guerriere sailor la parodia dei fratelli fratellini, c'è Magnetics che insomma lo sapete di chi è la parodia dai su via non vi devo dire io queste cose e varie ed eventuali e per il resto spero che abbiate guardato il film perché altrimenti vi sto sputtanando un sacco di battute ma torniamo a noi, anche il consiglio dei druidi è un pochino perplesso davanti alla decisione di Panoramix di passare il testimone, consiglio dei druidi che si sono rivelati un branco di insomma seppur saggi seppur sapienti e seppur filosofi non troppo prudenti e non troppo lungimiranti quanto Panoramix perché non solo non si sono curati di cercare un successore ma hanno addirittura compilato delle liste, e i druidi non dovrebbero scrivere di persone che ritengono più o meno capaci secondo i loro standard una cosa che Panoramix disapprova immensamente ma nonostante questo fa il giro di tutti quanti i giovani druidi compresi anche quelli classificati incapaci per essere sicuro di non farsene sfuggire nessuno prima di cominciare il giro avviene il primo confronto con il villain della storia con Rancorix che appare al consiglio dei druidi non invitato un po' come Malefica esibisce subito la sua magia spettacolare, quella del fuoco che lui padroneggia così bene e si propone come successore di Panoramix perché a sua detta a suo tempo è stato il numero uno è un po' più giovane di Panoramix ma è sempre un vecchio quello il punto e quindi insomma vuole avere il segreto della pozione magica vuole dimostrare di essere all'altezza Panoramix ovviamente insieme accuratamente con tutti gli altri druidi gli dicono no, tu sei stato bannito, tu non sei più uno dei nostri usi magia proibita e ti presenti un invitato quindi no, semplicemente e durante questo primo confronto scopriamo che lui può usare la magia del fuoco per influenzare le altre persone per ipnotizzarle, per incantarle ma soltanto i più suscettibili però perché su Asterix per esempio non funziona su Obelix sì e tramite uno dei druidi veniamo a conoscere la storia di Rancorix si tratta di un druido di eccezionale bravura che era coetaneo e studenti insieme a Panoramix che si è esibito in coppia con lui alla selezione per il miglior druido il numero uno di tutta la gallia, di tutta l'armorica della foresta dei Carnuti e via dicendo e alla selezione tra l'altro la scena è tutta in 2D è tutta in tradizionale e si tratta della sequenza che vi dicevo alla selezione si è presentato con questa magia del fuoco che poteva essere utilizzata plausibilmente in tutti i modi aveva un'utilità incredibile, lui poteva creare il fuoco poteva maneggiarlo, padroneggiarlo e quindi farci potenzialmente qualunque cosa Panoramix invece all'esame ha portato un incantesimo che era soltanto bello non serviva un cazzo era questa polverina che teneva dentro un compact come quello di Sailor Moon e gli dava la possibilità di costruire cose ma di costruire cose non nel senso pratico del termine in senso artistico del termine infatti lui ha una passione per il cairn che sono queste costruzioni in equilibrio in pietra e utilizzava questa polvere per fare dei cairn spettacolari per fare dei cairn bellissimi però la giuria davanti a questa esibizione ha considerato è carino ma non serve a niente per cui il primo premio è andato a Rancorix Rancorix si è preso la laurea dei druidi detta come va detta però non ha avuto la carriera che si aspettava infatti ha cominciato col fare qualcosa di utile per esempio i fuochi alle olimpiadi per esempio le spettacolarità del teatro e poi pian piano è scemato perché la gente ha cominciato a chiedere sempre meno i suoi servizi finché non è finito a fare fondamentalmente lo scaldino dei piatti al fast food mentre invece Panoramix dal canto suo è diventato sempre più famoso grazie alle sue arti grazie ai suoi incantesimi e adesso è diventato il druido più famoso di Gallia e preso dal rancore appunto Rancorix ha cominciato a rinchiudersi sempre con se stesso isolarsi dal mondo e a praticare magie proibite ma questo profilo non basta dire chi è Rancorix perché chi è lo vediamo da quello che fa non da quello che si dice di lui e quello che fa è manipolare le altre persone con uno charme tale da risultare convincente con chiunque come fare? semplicemente dicendo loro tutte le volte quello che volevano sentirsi dire è mettendosi in sintonia con l'ideologia della persona in questione tutte le volte per esempio quando parla con il druido Emmentalix quello il ragazzo che si trova sulle Alpi Svizzere Emmentalix e che in effetti risulta essere il più promettente e come successore di Panoramix usa con lui esattamente quello che quello che avrebbe detto Panoramix ha fatto sua quell'idea ovvero non importa che l'incantesimo sia utile l'importante è che sia bello ma lui non ci credeva davvero infatti gli insegna un incantesimo con la base del fuoco sempre che gli permette di fare qualcosa di bello un'esplosione di farfalle di fuoco che però non serve a niente lo convince fingendo di avere quell'ideologia quando invece in realtà il suo scopo è utilizzare il ragazzo per farsi dare la formula di Panoramix vuole la formula della pozione magica è quello il punto il ragazzo non è cattivo è geniale è in effetti il miglior ragazzo druido della Gallia però è molto suggestionabile e poco saggio e nonostante all'inizio tenti di fare resistenza all'avance di Rancorix quando lui cerca di convincere ad utilizzare quell'incantesimo quello delle farfalle piuttosto che il suo incantesimo che aveva elaborato lui di separare praticamente il vischio le bacche del vischio dalle foglie in modo pratico cerca di fare resistenza cerca di opporsi di dire no io non presenterò un progetto che non mi appartiene non presenterò qualcosa che non mi appartiene voglio fare qualcosa di mio però alla fine prevale la voglia di conquistare i favori di Panoramix quando parla quando Rancorix parla con Asterix gli dice e la mette giù così gli dice che vuole la pozione perché in realtà lui la vuole dare a tutti i popoli della Gallia e di intorni vuole che siano tutti pari vuole portare la pace è un pacifista lui tutti devono avere la stessa arma perché in questo modo sono pari Asterix fortunatamente non è così è suggestionabile e ingenuo come Mentalix quindi non ha bocca e il vero piano di 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 Rancorix sembra essere quello di prendere la formula inizialmente parrebbe per venderla ai romani in cambio di favori in cambio vuole la foresta dei Carnuti che gli viene concessa in anticipo da Cesare molto generosamente e molto onestamente ma quello che è forte di questo personaggio il suo punto di forza è il fatto che Rancorix in realtà non lo sa cosa vuole Rancorix è un personaggio emblematico perché dice a tutti quello che vorrebbero sentirsi dire ma lui di suo in realtà non sapeva neanche cosa fare della foresta dei Carnuti quando per sbaglio Tom Cruise gli dà fuoco lui dice proprio questo dice grazie sei un genio non sapevo cosa farci con questa foresta maledetta adesso ho capito quale è il suo destino deve bruciare lui non apprende insoddisfazione perché è una persona vuota non ha desideri suoi non ha dei sogni non ha una vera voglia di realizzare qualcosa e non ha passioni non ha un cazzo però vuole del riconoscimento lo stesso nonostante non abbia una visione e fa di tutto preso dal rancore per raggiungere questo obiettivo questo obiettivo vacuo che porterebbe disintegra gli altri per un capriccio egoistico per il fatto di sentirsi apprezzato e realizzato sulla base di niente e usa le ideologie altrui per manipolare le persone che potenzialmente avrebbero una direzione in cui andare ma deviate in questa maniera finiscono nel nulla come succede al povero mentalix che ritornerà a fare il suo lavoro alla fine del film con un pugno di mosche con niente soltanto molta tristezza per aver capito di essere stato raggirato e il consiglio di panoramix per favore ragazzo sei bravo sei gentile sei intelligente ma ricomincia tutto da capo perché non si può la ragazzina la ragazzina di cui non mi ricordo neanche il nome per dirvi quanto non è invadente il personaggio all'interno del film Milina penso che si chiami invece rappresenta la passione però annegata nell'ignoranza perché comunque sia sì lei è ingegnosa sa vedere anche molto più avanti dei suoi coetanei però ancora ce n'è di strada a fare ancora immatura gli va insegnata una barca di cose è appassionata è intelligente però è ancora una bambina quindi con tutte le problematiche del caso è proprio è un personaggio molto simile l'ho trovato molto simile ad Artù della Disney non è per niente stupida anzi è molto ossequiosa delle regole è molto in linea con Panoramix ed è per questo che lui le rivelerà poi l'ultimo ingrediente della pozione magica ma non è un genio di fatto commette molti errori all'interno del film e spesso si limita a fare dal supporto per gli altri compresi Asterix e Obelix molto carina la scena in cui Panoramix se la porta all'interno della foresta dei Carnuti posto in teoria vietato alle donne vietato ai non druidi e alle donne ovviamente anche sottolineato sul cartello ovviamente alle donne io pensavo che era vietato ai non druidi e alle donne ovviamente Panoramix ecco anche lui come druido su quello ovviamente chiude volentieri un occhio fa travestire da bambino gli dice di portare pazienza di entrare di non farsi di non preoccuparsi per questo disagio che le deve imporre è tollerrante nei confronti del sistema nonostante non sia d'accordo con molte cose e fondamentalmente la fa partecipare alla riunione dei druidi sotto mettite spoglie un po' alla Mulan ma al suo fianco è molto divertente anche la sottotrama diciamo quello che accade nel frattempo che loro sono a cercare il probabile futuro discepolo di Panoramix perché tutti gli uomini del villaggio tranne il bardo sono voluti andare insieme a loro a sorpresa proprio li incontrano nel bel mezzo del tour per assicurarsi che insomma quello che selezionava Panoramix fosse un druido accettabile e soprattutto un gallo accettabile prima che un druido accettabile quindi nel frattempo cosa è successo che al villaggio dell'armonica sono rimaste tutte le donne e il bardo che come tutti ben sappiamo un coglione ma poveretto ce la mette tutta per fare del suo e insomma per quella devo dire che gli hanno dato più dignità rispetto agli altri film in cui fondamentalmente è sempre l'omega del branco e una scorta di pozione magica per cui c'è questa sottotrama che intervalla gli eventi principali in cui i romani l'esercito dei romani attaccano periodicamente il villaggio dei galli nella speranza che finiscano la pozione magica sapendo che vabbè non ci sono gli uomini però ci sono le donne e hanno la pozione quindi le guela perché tanto la pozione rende imbattibile chiunque cioè rende chiunque superman quindi vedi queste uscire in cazzate nera alla carica dell'esercito romano e fare il culo tutti con la pozione finché a un certo punto effettivamente il piano dei romani non attichisce e loro non la finiscono e a quel punto devono limitarsi a cercare di non farsi ammazzare e se ne stanno sotto i menire per non farsi colpire dai macigni lanciati dai romani sopraggiungono a quel punto il gruppo di Panoramix e degli altri ma proprio mentre Panoramix si sta cingendo a fare alla svelta la pozione magica scopre che gli ingredienti sono stati rubati e quindi corre si precipita o meglio viene precipitato da Melina che sbaglia a regolare la sua sedia di supporto che l'ha servito fin lì perché non camminava bene a casa sua dove scopre con suo enorme disappunto però che gli altri due gli hanno avuto più o meno la sua stessa idea si sono recati nella sua abitazione per cercare di riprodurre una pozione che potesse contrastare i romani e hanno sprecato tutti gli ingredienti quindi l'unica speranza è che il Mentalix realizzi la pozione magica perché in teoria Panoramix gliel'ha rivelata il giorno prima durante la luna piena però c'è un problema perché Panoramix non ha rivelato tutti gli ingredienti al Mentalix l'ultimo ingrediente quello segreto non gliel'ha detto e non gliel'ha detto perché si è accorto si questo ragazzo sembra il suo successore ideale però mentre gli rivelava la formula ha preso contro al suo kern e non si è curato di ricostruirlo immediatamente e quando gliel'ha fatto notare ha detto beh non ricostruisci il mio kern lui gli ha risposto ma adesso devo farlo mentre gli sta rivelando la formula e a quel punto Panoramix ha capito che non era adatto perché gli importava di più di imparare la formula piuttosto che di ricostruire il kern gli importava di più del sapere quella cosa pratica lì piuttosto che della bellezza del kern che avevano di fianco dell'atmosfera della bellezza del momento Rancorix è sopraggiunto ad osservare tutta la preparazione della pozione fatta dai mentali con enorme disappunto di melina che sperava che non realizzasse la pozione davanti a lui rimane alquanto deluso dal fatto che non funzioni perché ci manca l'ultimo ingrediente segreto per cui con sottofondo dei romani che attaccano con i galli che cercano disperatamente di difendere nonostante non abbiano la pozione beve tutto il calderone della robaglia della pozione senza l'ingrediente segreto fatta dal mentalix ne risulta che i suoi poteri di fuoco vengono aumentati esponenzialmente e si scopre capace di sparare raggi di fuoco dalle mani addirittura bombarda proprio cioè diventa capace di sparare missili di fuoco dalle mani e da lì spara a zero su tutti spara anche sui romani che finiscono col mettersi momentaneamente dalla parte di galli e cercare di contrastarlo o comunque di difendersi dietro le barricate dei galli da questa nuova minaccia che in teoria fino a un secondo primere era il loro collaboratore mentre Panoramix se la vede con Rancorix cerca di fargli perdere tempo lascia la pozione da far a menia la quale ha rivelato il segreto dell'ultimo ingrediente che è il liquido che tiene all'interno del falcetto cosa sia esattamente non si sa però intanto gli ha detto che è quello lì Asterix e Obelix riescono a metterlo momentaneamente K.O. considerato il fatto che Obelix è l'unico che non ha bisogno della pozione magica quindi mena come un fabbro anche senza bere nessuna pozione ma capita che per sbaglio mentre è incosciente Rancorix beva parte di un intruglio che aveva preparato un altro druido per cercare di rifare una formula capace di contestare i romani che è un intruglio che ingigantisce chi lo beve ingigantisce gli organismi con cui viene accontato anche i fiori anche le piante non soltanto cioè chi lo assorbe ne risulta che adesso loro hanno la pozione perché Medina l'ha preparata però Rancorix è diventato un mostro enorme cioè un mostro colossale gigantesco con poteri di fuoco e non serve a niente la pozione perché sono troppo nonostante lo strapotere che hanno è strapotente anche lui e sono tante e come se fossero tante piccole mosche che lo infastidiscono qual è la soluzione di Panoramix intanto per cominciare distribuire tutta la pozione magica anche ai romani che si trovano a dover agire in concomitanza con i galli altrimenti alla fine non solo ma per far fronte a una minaccia del genere che distruggerebbe non solo l'esercito romano ma anche il villaggio dell'armorica che ha resistito fino adesso la minaccia romana utilizza il suo compact che è il medaglio si scopre essere il medaglione che ha sempre portato al collo per tutti questi film che contiene ancora la polvere che aveva preparato ai tempi e la utilizza per fare dei romani l'equivalente delle pietre dei kern ovvero ne fa una scultura con i romani impregnati di pozione magica la scultura di un centauro gigantesco un centauro con l'elmo romano con l'armatura romana un centauro romano e per la prima volta nella serie abbiamo il climax con i romani che per il bene devono combattere contro un gallo contro un druido gallo e devono vincere ed è un'immagine che secondo me è stata una soddisfazione fantastica naturalmente romani guidati da un gallo però perché a guidare il colosso del centauro romano era Panoramix che dimostra in questo modo che la sua arte alla fine un'utilità ce l'aveva non era un'utilità che spiccava a livello pratico subito non sembrava utile al momento ma nel lungo periodo in situazioni specifiche è come se era utile a un certo punto poi tra l'altro a capo del centauro si mette proprio Obelix cioè all'interno a manovrare a manovrare il complesso si mette Obelix con Panoramix fuori che lo aiuta con la sua magia e abbiamo il centauro romano che sconfigge e prende a cazzotti il druido celtico ma lo prende a cazzotti non a cazzotti a cazzotti a mine proprio ce lo fa volare nell'iperspazio si fa un giro tra le meteore e torna giù precipitando ovviamente sulla povera barca dei pirati che deve essere sempre la barchetta sfigata che è destinata ad affondare ogni volta che compare in un film di Asterix e insomma Cesare non riesce ancora una volta nel suo intento di conquistare la Gallia però in questo singolo caso Romani e Galli la finiscono in una in una stretta di mani un vabbè ciao ci rivediamo la prossima volta non si saccagnano come tradizionalmente avviene se ne tornano tutti a casa a festeggiare nelle loro rispettive maniere e Rancorix si leva dalle palle penso che sia morto perché non compare più tuttavia mi è piaciuto il fatto che alla fine del film Melina non venga fatta diventare un druido cioè la bambina non la fanno diventare un druido alla fine anzi lei stessa spera lo dice anche a Panoramix di scordare la formula quanto prima perché non è un druido e non vuole correre il rischio che la formula cada nelle mani sbagliate però Panoramix la sicura e dice non ti preoccupare col tempo la dimenticherai ma in cor suo spera che se la ricordi perché comunque la ritiene un successore magari non valido adesso ma sarà valido in futuro quando imparerà più cose quando sarà più istruita quando sarà pronta insomma e si conclude con lei che va a giocare di nuovo con gli altri bambini e cerca di non pensarci un'altra scena notevole che mi sento di rilevare prima di prima di concludere il video è quella durante il tour della Francia il tour della Gallia quando capitano il villaggio del cugino del capo e troviamo questo villaggio completamente assoggettato alla cultura romana i romani non sono presenti all'interno del villaggio non c'è neanche un romano nel villaggio ma allo stesso tempo nel villaggio tristemente sono tutti romani perché sono stati tutti conquistati culturalmente dai romani non c'è più un briccio di cultura gallica all'interno del villaggio loro cercano di farsi passare di nuovo per i galli che erano cercano di scimmiottare le vecchie tradizioni ma in realtà nei loro piatti ci sono le prugne secche i datteri e i pinoli non adorano più Tutatis e gli altri dei celtici ma adorano Marte adorano Giove non è più per Tutatis ma è per Giove l'esclamazione usano i mosaici per rappresentare le scene famose parlano di gladiatori vestono con toghe e gesticolano e si muovono in maniera molto vivace come noi italiani naturalmente quest'ultimo particolare è stato fatto a livello simbolico è ovvio che non sono stati non sono gli italiani ad aver conquistato la Francia e ad aver influenzato la Francia ma gli antichi romani quindi adesso semmai sarà il contrario siamo noi italiani che rischiamo di perdere la nostra identità culturale però hanno usato questa cosa per far capire il modo in cui accade la dinamica l'assumere atteggiamenti di una cultura che non ti appartiene è molto bella quella scena è significativo il fatto che nei film di Asterix il nazionalismo l'amore per la patria l'amore per le proprie tradizioni non è mai alla faccia delle altre cioè non si umiliano altre culture non si ritengono inferiori altre culture rispetto a quella gallica per esempio Asterix ha un cugino Bretton non so se vi ricordate Asterix a proposito penso che fosse proprio Asterix e la pozione magica questo film si chiama Asterix e il segreto della pozione magica il film a cui faccio riferimento è Asterix e la pozione magica ed è rappresenta all'interno del film il cugino britannico di Asterix che era appunto la sua controparte inglese e lì c'era tutto un altro mondo non erano ritenuti inferiori avevano semplicemente un'altra cultura nello stessa maniera non vengono ritenute inferiori di solito nei film di Asterix per esempio la cultura egizia la cultura greca e tante altre non erano ritenute inferiori però era importante nei film di Asterix mantenere la propria identità ed è sempre stato simboleggiato dai romani che cercano di conquistare anche l'ultimo pezzettino di Armorica anche l'ultimo pezzettino di Gallia secondo me è importante continuare a fare film di Asterix perché è importante ricordarsi che va bene non è la globalizzazione va bene tutto quanto però la nostra identità è importante il futuro è importante ed è molto legato all'identità culturale che abbiamo la non bigotteria è obbligatoria perché non siamo più ai tempi della pietra però ricordiamoci sempre di dare un occhio alla nostra storia perché dimenticare la nostra storia dimenticare le nostre tradizioni significa anche non fornire le basi per un futuro dei nostri figli dei nostri discendenti i piccoli galli che devono portare avanti il segreto della pozione magica devono avere alle spalle un villaggio di veri galli che li facciano crescere che li supportino magari portando ogni tanto a trovare Cugino Brattone o l'amico Siculo o i simpatici compagni egizi o alpini e con questo direi che ho finito di parlare di Asterix ho parlato molto di più della trama e del contenuto del film piuttosto che della struttura me ne rendo conto e ne ho parlato anche in maniera discontinua perché facevo vagare i pensieri e saltavo un argomento o l'altro spero che sia saltato fuori un discorso comprensibile il video come al solito verrà lungo 6 km spero di riuscire a montarlo entro un weekend e quantomeno entro domenica io vi mando un bacio enorme un abbraccio spero che ve la state passando bene e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao